L'autobus della linea 2 era fermo qui al capolinea di Viale Don Sturzo quando sono arrivati i vandali ed hanno iniziato a colpirlo come una furia. Un colpo secco, i vetri in frantumi, mentre il conducente era all'interno del mezzo preso di mira sabato sera a Mestre verso le 21.30 da alcuni minorenni che secondo quanto riferito dai testimoni giravano con mazze in mano colpendo e danneggiando anche alcune auto in sosta in Viale Don Sturzo e Vie Limitrofe. Il leso l'autista del bus che insieme ad alcuni cittadini ha allertato il 113 mentre sul posto sono intervenuti anche gli addetti di ACTV. È l'ennesimo atto vandalico in cui si trova coinvolto un autista su cui è intervenuto anche il segretario veneto della FIT CISL Venezia De Terlizzi. L'episodio ha dichiarato dimostra quanto già segnalato venerdì scorso al prefetto e al sindaco di Venezia affinché si attivi un tavolo perché bisogna intervenire subito. Della stessa linea anche il presidente della seconda commissione sicurezza in consiglio comunale a Venezia. È un fenomeno dilagante che ci preoccupa tutti noi amministratori, preoccupa tutta la comunità. Trova molta preoccupazione perché si va a intaccare l'incolumità di tutti i passeggeri e quindi di tutta la cittadinanza e questo è un serio rischio che va assolutamente marginato. Solo pochi giorni fa un altro autista, Margher, aveva rischiato la vita a causa di una biglia lanciata contro il finestrino che è andato in frantumi procurando gli otto giorni di prognosi. Andremo ad analizzare caso per caso sia da un punto di vista sociale perché appunto con i giovani bisognerebbe ragionare anche un po' prima col sociale per trovare delle vie diplomatiche nel senso di nuovi tipi di apprendimento per questi giovani, nuovi tipi di valori che probabilmente gli mancano, che col covid sono un po' scomparsi purtroppo. E se no, se questo non bastasse va messa alla piena autorità, in questo caso della polizia locale, anche a bordo dei mezzi se fosse necessario, ma sicuramente qualcosa dovremmo fare perché andranno avanti così non si può sicuramente andare.